Sabato 17 giugno sarà una data che entrerà nella storia di Brescia perché per la prima volta ci sarà un corteo Pride, unire la città, che si snoderà per le vie della città. Un'occasione per tutte le persone che hanno a cuore i diritti e le libertà di tutte e tutti. La partenza è prevista alle ore 15 da Piazza Vittoria, dove sarà anche presente la madrina dell'evento Vladimir Luxuria. Non mancheranno nemmeno Fabio Canino, Kasia Nabagesera e Madame Sisi. A conclusione dell'evento ci sarà una festa nel quartiere del Carmine Arcobaleno e poi un after party al Sonida Caffè. Sì, le cinque associazioni promotrici siamo partiti subito con questa idea di voler unire la città. Noi volevamo un progetto il più inclusivo possibile contro tutte le discriminazioni e per la valorizzazione delle differenze. La nostra parola d'ordine è stata costruire ponti. Ma a me veramente la risposta che abbiamo avuto dalla città e la provincia è stata al di sopra delle più rose aspettative. Insieme a tantissime realtà, associazioni di tanti tipi, appartenenti a tanti ambiti, abbiamo costruito un programma di eventi molto ricco. E la cosa che io sottolineo sempre è stata questa voglia da parte di queste realtà che a partire dalle loro competenze si sono avvicinate a noi con la voglia di esserci, di mettersi in gioco e abbiamo costruito dei ponti e delle relazioni, relazioni è un'altra parola importantissima, delle relazioni bellissime che rimarranno. Questa è la cosa più importante che abbiamo creato. Siamo cinque associazioni, ma io direi che una ventina di persone è da un anno che dedicano la vita a questo progetto. E quindi abbiamo bisogno anche di pausa. E quindi sarà sicuramente, insomma, lo definiamo così, la conclusione di questo progetto. Oltre alla giornata dedicata alla fierezza degli omosessuali e transessuali, la parola Pride vuol dire fierezza. È la giornata in cui noi attraversiamo le strade, i Pride vengono organizzati ogni anno in molte città del mondo, soprattutto occidentale e d'Italia. Ed è il giorno in cui noi diciamo che siamo fieri di quello che siamo, delle nostre vite. Fondamentale l'appoggio della CGL di Brescia. Io penso che il percorso che è stato realizzato è stato di, appunto, unire la città dal punto di vista delle conoscenze, anche culturali, di cosa significa oggi diritti per tutti e per tutte, indipendentemente dalla propria, diciamo così, situazione di condizione sessuale. E, essendo il primo Pride, davvero le associazioni che hanno deciso di fare questa, di queste iniziative, l'hanno fatto in modo molto intelligente, davvero, da ringraziare. E io penso che si meritavano già subito la condivisione assoluta di tutte le istituzioni. Perché è chiaro che lo slogan di unire la città e di mettere, appunto, a conoscenza tutti e tutte dei diritti fondamentali è un tema che è scritto anche nella nostra Costituzione. Pertanto, non l'hanno fatto questa volta, sperando che nel secondo edizione, che sicuramente ci sarà del Pride, ci sia, appunto, la condivisione di istituzioni così importanti, quale la provincia e il comune capoluogo. Grazie.